tipo adesso, guarda che roba anche questa che facciamo è una rispetto alla scaletta della volta scorsa, il 10 settembre siamo tutti un bue romano che si sta levando la camicia io la tengo la gialla, se non si sai se è più la camicia no, no, per cui l'ho acceso non è vero se non è in tempo no, è vero e allora ok il duca solo lui, capito il duca bianco non è vero non è vero non è vero grazie a tutti Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!